Ciao, per chi non mi conoscesse, sono Flavio Basso, responsabile del controllo Qualità WIRT. Oggi ho il piacere di portarvi all'interno del nostro laboratorio un servizio di tecnologia e professionalità a servizio del cliente. Seguitemi. Cosa significa qualità secondo WIRT? Qualità secondo WIRT la posso definire come impegnarsi costantemente nella ricerca e sviluppo di soluzioni, sistemi e naturalmente prodotti per diventare dei partner affidabili, veloci e, come scritto nella nostra brochure, professionali al servizio dei nostri clienti. Quali sono i prossimi investimenti per il futuro? Credo fortemente che un investimento sulla digitalizzazione a livello aziendale e specifica per il controllo Qualità possa effettivamente dare quella svolta che oggi il mercato chiede. A fronte di questo vedo anche un investimento rivolto ai due laboratori, cioè quello piccolo di Capena, chiamiamolo così, nel nostro dipartimento di staccato, e un restyling per quanto riguarda il controllo Qualità di Enya. Questo perché non è folle pensare ad ottenere la certificazione ISO 17025, che è quella che accredita il laboratorio a livello internazionale, ovvero essere un laboratorio controllo Qualità accreditato a tutti gli effetti. Come scegliete i controlli da eseguire per garantire un prodotto? I controlli che scegliamo passano attraverso una serie di criteri interni di Vjort Italia e dei criteri dettati dal gruppo Vjort. Cerchiamo di lavorare molto bene a monte, questo per seguire in modo diretto o indiretto tutte le varie fasi di sviluppo e produzione. Chiaramente un occhio di riguardo lo rivolgiamo ai nostri clienti, perché attraverso le loro segnalazioni riusciamo a trasportarle sui nostri prodotti e quindi cercare di migliorarli, offrendo loro un miglioramento sul prodotto e naturalmente sul servizio. Che standard richiedete per i vostri fornitori? Anche questo aspetto è ben definito internamente, gestito e monitorato attraverso l'ausilio del nostro portale fornitori. Coordinating team di 10 persone, formate e preparate per effettuare degli audit specifici direttamente dal produttore, quindi assicurarsi personalmente della presenza dei requisiti richiesti dal gruppo Vjort per essere fornitori accreditati e quindi riuscire ad entrare nel nostro albo fornitori. Che servizio offrite ai clienti oltre alle garanzia sui prodotti? Grazie alla strumentazione innovativa presente nel nostro laboratorio e alla professionalità offerta dal team del controllo qualità, supportata anche dai nostri tre ingegneri, riusciamo ad offrire ai clienti un servizio di consulenza tecnico specifica come test di laboratorio. Cosa significa questo? Significa dare l'opportunità al cliente di avere come punto d'appoggio il nostro controllo qualità, sfruttare le nostre capacità, sfruttare le nostre strumentazioni per arrivare al raggiungimento del suo obiettivo, che è quello di avere la garanzia del prodotto Vjort accompagnato dal suo progetto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!